La palla colpita di testa I polossi tornano all'attacco e smarcano con un perfetto lancio Ghigia in area, ma per precipitazione l'ala perde l'occasione preziosa. Nella ripresa una sola parata difficile per il portiere romanista che si tuffa con audacia sul pericoloso pallone. Anche il lungo portiere laziale dice con bravura di no ad una sventola di costa da pochi metri. Verso la fine la Roma ridotta in dieci uomini senza ancora la via della vittoria, ma il volito di Ghigia fa la barba alla traversa. Grazie a tutti!